Ciao a tutti, oggi vedremo come possiamo preparare un olio d'olio o come possiamo scrammellare gli olio dentro la città. Allora, vediamo gli ingredienti e cosa dobbiamo preparare. Useremo 4 occhi, un po' con l'acqua, due clippe di spinner e un sacco. E ora giriamo l'olio 10 o 12 volte, mantenete attenzione non per farlo o nulla cosa. Waaah! Ok, ora facciamo lo stesso con l'altra città. Ora facciamo l'olio per 80 minuti. Dopo 8 minuti, i nostri occhi sono pronti. Ora lasciamo uscire dal città e le mettiamo sotto l'acqua. e dopo apriamo per controllare se il nostro esperimento è fatto. Ora facciamo, insuffisiamo. App sull'acqua, fredol, ubb ha un po' con il richielo Siamo 셨omi. La città è solo, prima cosa dobbiamo preparare quello che spero. La città è una ricetta è stata una ricetta così troppo. Il ha fatto un po' con voi, il raffredd beh, si è necessario. La città è una ricetta più forte. Quindi, in fine, siamo capiti di scambiare gli ucchi in l'aria. Quindi ragazzi, vediamo la prossima, ciao! In fine, siamo capiti, siamo capiti, in fine, siamo capiti di scambiare gli ucchi in l'aria. Ora, con questi ucchi, sarò... Ciao! 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 Ciao!